Allora Michele e Anna, dopo un brutto mercoledì che aveva tolto qualche punticino, ho visto qualche squalifica, adesso un bel sabato, una vittoria importante da anni di Sanresburgo. Sì, ci siamo rifatti, l'importante era vincere, così possiamo lottare per salire in Serie A, quindi adesso siamo in zona playoff. Speriamo nelle prossime partite di vincerle pure, così ci mettiamo in zona più tranquilla. L'assenza del capitano, di Mazzola, non hanno pesato oggi? Non hanno pesato però i ragazzi che li hanno sostituiti sono stati in grado di farci vincere. E niente, tutto qui. Migliore in campo? Migliore in campo il portiere. Una parola sugli avversari? Sportivissimi che ci hanno permesso di giocare la partita. E niente, un applauso. Per finire il prossimo turno Real Team, un altro scontro diretto per i bassi fondi. Visto la classifica dobbiamo vincere tutte le... Cioè, dobbiamo giovarcele sempre. Ormai per noi ogni partito è uno scontro diretto, quindi speriamo di vincere anche le prossime. Ok, grazie Michele. Arrivederci, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.